Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove per lavori ci sono due chilometri di coda tra Scandici e la Strassigna in direzione Livorno, sempre per lavori rallentamenti tra Ponte d'Eresto e Montopolivaldarno in direzione Firenze. Passando al raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Firenze in pruneta in direzione Firenze. Sulla statale Trebbi Stiberina, a seguito del sequestro preventivo del viadotto Puleto nel comune di Pieve Santo Stefano, chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra Canili e Val Savignone. Info sui percorsi alternativi sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!